Quizzettone, ti diventi un gran campione! Qual è l'unico gioco quiz dotato di console elettronica? Quizzettone! Ditemi! Qual è l'unico gioco quiz dotato di sei pulsanti, illumino sonori ed esclusione automatica? Quizzettone! Qual è l'unico gioco quiz con 1800 domande di abilità e di memoria? Quizzettone! Qual è l'unico gioco quiz dove si vincono i gettoni dei campioni? Quizzettone, ed qui sarà il campione! Quizzettone, l'unico gioco quiz elettronico! Tocchi preziosi!